it's me mario benvenuti ragazzi mio canale sono super mario vj e questa è la mia nipotina ciao ciao salta salta quando arriva dalle dalle pazzini si della culo dei bambini cosa ci fa dalla culo del bimbo? è caduto dentro si sai come fa a uscire? non riesce più? no è caduto è caduto mi ha dato la sua presina al cane oh kitty non l'ho visto che c'era al vietro scusate che ha visto stai a vedere il bicchiere e questo è questo è un po' di sforzo stai a vedere il bicchiere suppressed boom boom oh ci hanno molto caldo boom choses cosé cos'è quindi... aeroligian è messo sei gastrato posso dar un buco vedo un sacchetto ahahahhaha cosa? cos'hai la? le latine? no, le stotte la latina di tezo ahhh che cosa sa? fumana guarda come sa poi guarda giocano anche nel tablet ma la tablet b suffered banana volatoglio gatto piccolino questo? nooo tra un po' non vestiva la macchina che gatto pasticcione no che magro pasticcione no buuu ha fatto a guardare l'obiettino quello? si è incastrato ai denti non l'ha aiutato l'obiettino buuu sta ballando no no adesso fa buuu anche io tutti giù per terra non è vero fa buuu il gatto cade in piedi? no mamma questa è una vasca vuole fare la doccia facciamo fare la doccia? ah ahahahah che gattimonelle posso buttare ancora uno? sta cercando un libro? si sta cercando un libro? no cosa ha preso? la maglietta ti sta guardando ti sta guardando si ti sta guardando nasconditi ahahah 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 una cosa dei peciolini ahahah addirittura questo è un po' grasso tecno vuole saltare se lo andiamo secondo me fa boom anche per me ahahah ahahah è troppo grasso è troppo grasso è caduto ahahah 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 la carta non ci entro vuole entrare ma non ci entro ahahah perché hai un pezzo troppo grosso ahahah ahahah forse diventa di schiena così ci ahahah eh sì non è stata così non è stata così però poi l'abbiamo giustata quella cosa coccodrillo 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 il gatto ha spaventato il coccodrillo aveva montato in acqua ma il coccodrillo allora c'ha paura del gatto eh sì sì deve avere ahahah 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 cosa faccio ci fai giù la scatola top 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 si sta mangiando si stava mangiando la carta si stava mangiando la carta si stava mangiando la coda ahahah ahahah mi stava appisa luna ahahah ahahah si stava mangiando la carta ahahah Ahahah è entrato dentro la sacchettino è entrato dentro i sacchettino è entrato dentro la sacchettino tu tu vai a far gatto ma non espira nei tu sacchetti davvero ahahah ma adesso è entrato in una vasca anche questa se hai fatto il bagno un topo un topo guarda come si rompica sopra un topo un topo un topo ecco che acrobazia da un altro ti prego guarda che acrobazia guarda boom l'ha preso eeeh che bravo questo gatto si che prestato è bravissimo andiamo a vedere cosa fa adesso fa la statua miau 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 non si muove fa la statua ma c'è un topo la per non far rumore guarda come va piano guarda mangelo shhh che se nasce vede fuori ahia no sembra che non può aspettare questo è un topo no perchè scuro ecco la vova ecco la vova l'ho preso sii era un topo era un uccellino è vero guarda nooo staccato la presa dove è staccato ha staccato tipo questo lo sta guardando dietro ahahah 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 che fa questo che fa questo scemo sta guardando l'uccellino ahahahahah ahahahahah ma come è questa? con l'acrobazia anche questo cosa ha mangiato? una farfalla cos'era? ciao 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 bye bye